All, indosso per voi i miei ultimi acquisti. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale. Oggi un nuovissimo video in cui vi mostro gli ultimi acquisti che ho fatto. Come sempre sono poche poche cose e le vediamo insieme. Ma prima di iniziare, come sempre, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se vi va e di attivare la campanella delle notifiche. Inoltre vi ricordo come sempre che potete trovarmi anche su Instagram con il nickname Isabella.m Quindi vi invito a seguirmi anche lì se non l'aveste già fatto. Detto questo partiamo subito come nel video. Vi mostro subito le cose che ho acquistato e ve le mostro anche indossate. Partiamo da H&M. Devo dire che ultimamente sono veramente brava perché acquisto pochissimo, ma poco 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 rispetto agli altri anni. Cioè veramente non acquisto nulla. In più, quando vado da H&M, non mi piace più nulla. Non riesco a capire perché, però non trovo più cose che mi piacciono. Non hanno tantissima scelta. Ho trovato comunque la collezione primaverile sia sul sito che in negozio. Non lo so. Mi ha lasciato un po' così. In più ci sono cappi che c'erano già dall'anno scorso. Cose un po' sempre riviste. Non sono rimasta particolarmente contenta. Non mi sono negata però una t-shirt a righe che sapete, amo tantissimo, mi piacciono tantissimo le t-shirt a righe. Dovevo cambiare delle t-shirt che ormai erano vecchie, usurate, buccate perché non so se capita anche a voi, ma io ho un problema. Dopo un tot di lavaggi, che siano t-shirt di Mango, H&M, le ho provate tutte, vi giuro, Amazon. Ad un certo punto le t-shirt, quelle in puro cotone, quindi 100% cotone, mi fanno il buco qui. Non riesco a capire perché. Non so se sia perché li infilo all'interno dei jeans, però vi devo dire la verità, questo accade e è accaduto anche con le t-shirt di Leonardo che ha comunque tutte t-shirt Nike, Vans, Adidas, dove la qualità dovrebbe essere un po' maggiore rispetto alle t-shirt di H&M, mi è successo anche con le sue. Con le sue mi è successo un po' dopo, nel senso a distanza di un anno, però voglio dire, fanno sempre il buco nello stesso punto, non riesco a capire perché. Comunque, vabbè, detto questo, mi sono dilungata troppo, ho preso questa maglietta qui, anzi, fatemi sapere, io voglio sapere se anche le vostre t-shirt fanno il buco qui come me, perché veramente non riesco a capire questa cosa, mi sto dannando da anni. Comunque ho preso questa qui di H&M, questo non è un cotone super leggero, è un cotone un po' più spesso, e niente, mi piaceva. Ho preso una M perché non c'era la S, però in realtà poi l'ho provata, ho anche pensato che con l'asciugatrice si restringe, e soprattutto io odio le t-shirt troppo strette d'estate, a me piacciono larghe, perché altrimenti mi fanno sudare e non mi sento bene, quindi in cotone assolutamente, ma che siano anche un po' ampie da sentirmi comoda. Questa qui è una classica t-shirt, si possono tranquillamente rigirare le maniche, e l'effetto è davvero carino anche con le maniche digerate, e mi piace moltissimo, e poi trovo che abbinata sia a un pantalone bianco che a un pantalone blu, sia super super estiva. Ero alla ricerca di vestiti lunghi, da indossare sia con ciabattine che con sneakers, perché ho tantissimi vestiti per l'estate, devo essere sincera, anche da diverse collaborazioni fatte l'anno scorso, ma ce ne sono pochi di lunghi, la maggior parte sono tutti a tre quarti oppure dal ginocchio, quindi volevo dei vestitini lunghi. Ho trovato solo questo che mi piacesse, questo lo trovo davvero carino, perché è un chemisier, quindi va giù lungo lungo lungo, ha tutti i bottoni, quindi tranquillamente, se si vuole, si può utilizzare anche come sorta di cardigan, sopra a un crop top, mi piace anche quell'idea personalmente. Questo qui è appunto un vestitino in 100% viscosa, è molto fresco e piacevole addosso, ha le maniche, così ha la manichetta corta, scende un po' lunghetta, infatti mi piace l'effetto più con la manica rigirata, ha la sua cinturina in vita, la sua fushacca, e basta, questo è quanto, è leggermente arricciato qui e dietro, è semplicissimo. Io ho preso una taglia S e mi resta giusta, mi va bene, insomma. Questo mi piace, è un colore anche che mi piace, perché è comunque uno di quei colori neutri che mi piace tantissimo d'estate, e quindi trovo che è abbinato sia ad un bel paio di sneakers che ad un bel paio di sandaletti, si è davvero molto bene ed è comunque un vestitino molto fresco. Dato che non trovavo nulla da nessuna parte, ho detto, vabbè, sai che c'è, provo a dare un occhio anche su Amazon, e su Amazon ho trovato questo vestito di Olly, che mi piace un sacco, è di questo color anguria, lo definisco io, e questo qui è appunto, vi dicevo, di Olly, ho preso una taglia S, non so se ci fosse anche l'XS, che forse sarebbe stata meglio, però dato che volevo vedere per prenderne un altro di uguale, perché mi piace davvero tantissimo, in più ha un cotone fresco, questo qui è fatto di... cotone, esatto, si sente proprio un bel cotone fresco, mi piace tantissimo, ha il tatto, è semplicissimo come vestito, è la particolarità di avere queste manichine così a volant, e poi scende tutto a balze, proprio come i vestiti che piacciono a me, belli e ampi, anche qui si può optare per metterci, insomma, una cintura, nel caso si voglia stringere un po' il punto vita, a me non dispiace neanche largo, perché vi dico, d'estate a me fanno caldo anche le cinture, e quindi a volte, magari alla sera riesco anche a metterle, però vi dico, se devo indossarli di giorno, questi vestiti, io li preferisco ampi, perché voglio che passi l'aria, e voglio stare fresca, l'altro vestito che ho preso, è di Amazon Essential, ed è questo qui, è un semplice vestito color prugna, che si stringe in vita da un elastico, e scende fino ai piedi, è abbastanza lungo, questo è di Jersey, credo proprio sia di Jersey, a sentire il materiale, anzi sono quasi certa, non trovo l'etichetta, ok vabbè, non trovo l'etichetta, guarderò dopo, comunque casomai, ve lo scrivo sotto, sembra proprio di Jersey, il tessuto, vi dico, non mi dispiace ad osso, mi piace anche come mi sta, devo essere sincera, forse ho toppato un po' il colore, il colore, me lo aspettavo più, un colore rosso, rosso bordeaux, che è un colore che a me piace anche in estate, questo viola così prugna, non mi fa impazzire, infatti credo personalmente lo rimanderò indietro, anche questo sta benissimo, con una bella cintura in vita, vedo se c'è qualche altro colore, e magari vedo di prendere anche una taglia in meno, perché questo è una S, veste bello bello lungo, e quindi magari un XS, mi sta un po' più strettina, anche in vita vado meglio, perché la vita qui è elastica, e tende un po' a scendere, perché mi è un po' largo nel punto vita, diciamo sotto al seno, comunque è carino, è fatto bene, mi dispiace per il colore, devo essere sincera, devo vedere che altri colori ci sono, perché nel caso proverò un altro colore, l'anno scorso ho preso un paio di ciabattine da H&M, che forse ricorderete, forse no, comunque è questo paio di ciabattine color nude, con un fiocchetto davanti, e mi sono trovata benissimo con le ciabattine, quindi mi sono detta, volevo prendere un altro paio di ciabattine, o di sandaletti, che comunque fosse aperto dietro, che quindi non avesse i lacci dietro, e sono adatta a dare un occhio su Amazon, nella sezione The Drop, che è sempre un marchio, il marchio fashion, diciamo di Amazon, e ho trovato questi sandaletti qui, che mi sono piaciuti un sacchissimo, i sandaletti in questione sono questi, io ho preso una 37, credo, allora vi dico, mi sono piaciuti talmente tanto, e sono talmente comodi, che ho ordinato anche quelli bianchi, quelli bianchi costano ancora meno, perché credo di averli pagati 13 euro, una stupidaggine, questi qui hanno un tacco di, sarà, mi sembra che era 6 cm il tacco, sono fatti così, e mi piacciono davvero molto, devo dire, sono super comodi, tra l'altro, tacco comodo, posso solamente che consigliarle, vi lascio comunque tutti i link, in info box, delle cose che ho preso, avevo poi bisogno di un paio di sneakers, nuove, perché quelle di New Balance, non è che siano vecchie, anzi, continuerò ad utilizzarle, però sono un po' più autunnali, invernali, anche primaverili, volendo, però insomma diciamo che io per l'estate, preferisco le sneakers bianche, quindi sono andata a dare un occhio, sempre su Amazon, e ho trovato queste qui di Puma, che mi sono piaciute un sacco, sono così, poi vi lascio il link sotto, e dietro sono così, hanno questa strisciolina rosa, di questo bel rosa porcellino, e sono super belle, mi piacciono tantissimo, quindi anche queste prese su Amazon, vi lascio il link qui sotto, davvero molto belle, e tra l'altro sono anche molto comode, perché hanno tipo una soletta, che attutisce bene insomma il piede. Niente, questo era quanto, io spero tantissimo, il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi ringrazio come sempre, vi bacio, vi abbraccio, lasciate un bel like, e ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti.